Finalmente si riparte, si riparte con lo sport, è una delle cose più importanti nella vita, bisogna gareggiare come bicicletta, quindi come mi hanno detto a me è voluta la bicicletta pedana, anche voi vi auguro di pedalare e di fare una bellissima gara. 3, 2, 1, via, buona gara! 3, 2, via, buona gara! 3, 2, via, buona gara! 3, 2, via, buona gara! Grazie! 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 La categoria allievi maschili, partite in quest'etante la categoria sorvedenti. Grazie! 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 Vittorio per Matteo Rinaldi! Bravo Luca! Bravo! Bravo! Spermati sul campanile di scuola Luca Spizzani! Bravo! E il vizitore della categoria sorvedenti, Mattia Arnoldi, della società ciclistica romanese. Vittorio! 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 Partita! Vittorio! La prova riservata alla categoria edizze! Allora! Vittorio! Allora! Vittorio! Grazie a tutti. Partano anche... Partano anche... Partano anche... Partano anche... Un bel applauso per i figli di singole categorie.